considerando anche la contemporaneità e spero di non causare un fuggi-fuggi dell'intervista a Snowden che c'è in questo momento, considero già questo un grosso complimento e quindi grazie innanzitutto per essere qui. Io mi chiamo Marco Calamari, sono del centro Hermes per la trasparenza e i diritti digitali, faccio un intervento però che non ha una correlazione diretta con il mio interesse principale ma è un tema che sto portando avanti da diversi anni e che mi piace presentare con le evoluzioni che continuamente succedono. Il tema è quello dell'internet delle cose, l'internet delle cose è una parola abbastanza abusata e probabilmente richiede una ridefinizione tutte le volte. Il materiale che presento poi è pubblicato liberamente sotto licenza aperta e in internet lo troverete in diversi posti. Due parole su di me, io sono un ingegnere nucleare quindi un disoccupato potenziale in Italia, per fortuna mi occupavo già ai tempi dei tempi di informatica, mi ero comprato il pc al posto della macchina quindi mi sono riciclato come informatico industriale e ho costruito diciamo una carriera che mi ha consentito di guadagnare la pagnotta. Poi invece per passione faccio cose di questo tipo, scrivo software libero, contribuisco anche a fare advocacy, rubo qualche briciola di mestiere di giornalisti perché scrivo correntemente una rubrica sul punto informatico e lavoro in una multinazionale dove mi faccio archeologia di sorgenti software legacy e ho fondato il progetto Winston Smith che è un'organizzazione che in Italia ha portato avanti per una quindicina d'anni i discorsi legati alla privacy in rete e attualmente invece sono fra i fondatori del centro Hermes sui diritti digitali che ha presentato tra l'altro diversi interventi qui. Da una dozzina d'anni organizziamo quello che è il convegno di riferimento sulla privacy dei diritti civili in rete e fuori che è il convegno e privacy. Ecco la presentazione è stata tutta qui, questo è un bellissimo disegno che illustra un articolo di Wired di un annetto fa circa e che cosa rappresenta? Bene, rappresenta una persona che si alza e sta facendo colazione. C'è qualcuno della mia generazione, vi ricordate una famosa canzone dei Pink Floyd, Alan Psychedelic Breakfast. Quelli che se la ricordano potrebbero pensare a una situazione di quel tipo lì, uno si sveglia in stato anche un po' mentalmente alterato, a me succede spesso di essere un po' rinzionato la mattina e mentre sta cercando di sopravvivere bevendo il caffè e quindi cominciando a partire per la sua giornata si guarda intorno e vede che stanno succedendo cose strane. Stanno succedendo cose strane perché gli oggetti si parlano fra di loro. Questa è la simbologia che c'è dietro questa semplice illustrazione. Ma soprattutto lui non sa che cosa si dicono, i fumetti sono bianchi. Bene, è un po' un'allegoria e cercherò di convincervi che dietro questo c'è una cosa reale e dietro questa cosa reale ci sono dei problemi anche grandi. Vedete che in basso a destra c'è una cosina strana, non si capisce cosa sia, è un coniglietto che si chiama Naberstag, perché l'internet delle cose, come tutte le cose nuove, bisogna trovargli una data di nascita. Quando è che l'internet delle cose è nata? Già stentiamo a definirla, quindi figuriamoci a farne anche una storiografia. Ve lo dico io quando è nata. È nata alla fine del 2006 quando una sconosciuta ditta francese che si chiamava Violet ha inventato il primo oggetto il primo abitante dell'internet delle cose, un coniglio, Naberstag, perché Naberstag allora pare che, ma io qui lo dico e qui lo nego, il fondatore della compagnia fosse un armeno e pare che Naberstag in armeno, forse qui qualcuno potrebbe anche saperlo e confermarlo, vuol dire coniglio. Ma comunque Naberstag è un nome abbastanza originale per avere un fascino nel suo suono. L'oggetto che cos'è? L'oggetto è questo. È una specie di tronco di cono in plastica con un nasino da animale, due occhietti appena accennati, un microfono che fa da un belico e due orecchie. Queste orecchie sono notate di motorini passo passo e possono semplicemente girare. L'oggetto contiene non proprio un computer ma un piccolo computer, si connette a internet, ha delle luci colorate, ha un sintetizzatore vocale, ha una scheda audio quindi può anche ascoltare, ha un bottone sulla testa. Il server remoto a cui si collega, che è un server dell'azienda ovviamente, ti permette di donargli un'intelligenza. Si potevano caricare dei piccoli programmini che si attivavano a ore fissate, il Naberstag lampeggiava, si addormentava, si risvegliava, si metteva a cantare. Io ho guadagnato un numero incredibile, imprevisto di punti con la mia signora che è quanto di più refrattaria di informatica possiate immaginare. Il giorno che gliel'ho regalato con un atto di coraggio veramente notevole e l'ho programmato in modo che alle otto di sera, quando di solito mangiamo sul divano, lui si svegliasse, la salutasse per nome e gli leggesse l'oroscopo dei gemelli. Ecco, vi garantito che quello è stato un momento di catarsi nella vita mia di relazione con la mia signora veramente cosmico, perché questo è un oggetto che ha un feeling, che vive di feeling. È un internet delle cose nella sua espressione più forte, cioè è un qualche cosa che ti fa completamente dimenticare di essere un computer animato da un server remoto internet con flussi di dati in TCP, IP e trasmissione via wireless, ma è un oggetto che da immediatamente stabilisce un rapporto di tipo comunicativo non verbale con il suo possessore. Vi garantisco, io sono un fanatico, anzi un paranoico della privacy, questo è un oggetto diabolico da questo punto di vista, eppure l'ho tenuto acceso per anni in casa e ce l'ho ancora, che poverino è morto, per delle cose che vi illustrerò. Quindi io arbitrariamente come primo storiografo dell'internet delle cose stabilisco che la fine del 2006 è l'anno zero dell'internet delle cose e che lui è il primo abitante, non lo voglio chiamare il primo oggetto dell'internet delle cose. E questo è il suo aspetto più commerciale, con tanto di etichetta del prezzo era abbastanza caro e le lucine accese. Non ve l'ho portato perché l'implementazione sarebbe stata difficile. Comunque vi garantisco che è un oggetto che emotivamente era forte, era avuto immediatamente un grosso successo e è diventato un'icona. Addirittura si potevano sposare due conigli in maniera tale che se tu ne regalavi anche uno alla tua signora, appunto, se tu andavi sul tuo coniglio e muovevi le orecchie in un certo modo, il coniglio da un'altra parte del mondo suonava e muoveva le orecchie nello stesso modo. E anche questo era un modo per convincere magari un avvocato a tenere un oggetto del genere nel suo studio e spiegare al cliente di turno che c'era e che vedeva il coniglio cantare e muovere le orecchie di che cosa esattamente si trattava. Internet delle cose. Vi ho raccontato una parte bella dell'internet delle cose, non continuerà così ancora per molto. L'internet delle cose è cominciata con degli oggetti di tipo emotivo ma poi si è evoluta perché in effetti il fatto che un oggetto dotato di un minimo di intelligenza crescente con gli anni possa comunicare attraverso internet ha anche valenze molto meno emotive e molto più importanti da un punto di vista funzionale sicuramente ma anche da un punto di vista economico. Qualche anno dopo a coniglio è già defunto ma poi ritorniamo su questa storia e quindi siamo intorno al 2009, 2010, 2011 cominciano a apparire gli elettrodomestici che si connettono a internet. Questo è un esempio di frigorifero dotato di computer che era in grado di percepire una parte dei contenuti, di ricordarti che mancava il latte o quel latte era scaduto, di ricordarti che dovevi fare qualche cosa, insomma diciamo che tentava di gestirti. Anche questo è un oggetto simpatico, certo non hai il feeling di un coniglietto canterino che muove le orecchie, però se tu sei un pochino flippato per l'informatica, insomma il fatto che il tuo frigorifero interagisca con te con un touch screen ti dà tutta una soddisfazione particolare. Vedete che i coniglietti continuano a occhieggiare questa presentazione. Ma perché con i frigoriferi, lavatrici? Abbiamo fatto una presentazione sull'internet delle lavatrici ai privacy dell'anno scorso, perché anche le lavatrici si sono diciamo così computerizzate e quindi hanno uno schermo, hanno la possibilità di interagire al trucco, ma in realtà gli elettrodomestici sono già elettronici da moltissimo tempo e anche prima che fossero capaci di connettersi a internet, un elettrodomestico poteva dimostrare una notevole intelligenza e una capacità di guardarti. Nel 2005, 2006, 2007 già esistevano lavatrici a controllo completamente numerico e è successo a un mio caro amico che ha fatto questa presentazione di cui vi accennavo di avere la lavatrice rotta, chiamare il tecnico, il tecnico arriva, tira fuori un terminale e lo attacca a una porta seriale e comincia a dirti, è certo che lei usa molto detersivo e poi vedo che verso febbraio fa sempre dei lavaggi a pieno carico, cosa fa? Lava i piumoni, dice sì effettivamente io lavo i piumoni, eh sì guardi però l'acqua è meno dura di quello che potrebbe essere, quindi lei dovrebbe usare meno detersivo, poi mi raccomando centrifughi a una velocità un po' minore perché causa troppa vibrazione al macchinario e questo l'aveva detto la lavatrice, il tecnico, senza bisogno di avere internet. Ecco, pensate cosa può succedere se elettrodomestiche già sono da anni capaci di guardarvi e noi non lo sapevamo, non lo sapevo neanche io, probabilmente la mia lavatrice ha le stesse capacità pur essendo un po' vecchiotta, aggiungiamo la possibilità di comunicare, è un salto quantico, una cosa incredibile. È possibile che l'interno delle cose che io vedevo piena di conigli sorridenti cinguettanti, anzi non cinguettanti, e cantanti, possa degenerare, possa diventare cattiva. La mia rubrica si chiama Cassandra Crossing e io sono di solito un profeta di sventure, voi sapete che Cassandra aveva il dono della profezia perché Giove mi pare gliel'aveva offerto per avere un congresso con lei, lei aveva accettato il dono e poi non aveva concluso e il Dio si era vendicato, diceva bene sì, tu sarai profetessa ma non sarai mai creduta e infatti Cassandra, anche nell'episodio letterario che la riguarda della guerra di Trovera, non viene creduta. Qual è il problema dell'interno delle cose? Beh, l'interno delle cose è un problema di fondo, noi valiamo, noi come persone, come produttori di infosmog, come produttori di informazione abbiamo un valore, valiamo dei soldi e dove ci sono i soldi, dove non c'è la passione, il bello, la purezza eccetera eccetera, ma come tutti i posti, dove ci sono i soldi, bene, si creano i problemi. Ricordatevi, noi siamo ancora in cucina con gli oggetti che si parlano fra di loro e ci chiediamo bene che cosa sta succedendo, perché non lo sappiamo in realtà, perché? Perché tutta questa parte di internet delle cose, di informatica, è quella che una volta si chiamava l'informatica ubiqua, quando i computer spariranno e continueranno a servirci senza apparire, senza avere tastiere, monitor eccetera eccetera, bellissimo. Dieci anni fa una cosa del genere faceva andare in brodo di giugiole, ma è una cosa essenzialmente positiva? Non ci possono essere dei rischi sul fatto che un oggetto che io continuo a vedere come una lavatrice, in realtà sia qualche cosa che parla continuamente col suo fabbricante su quante mutande io lavo la settimana? Potrebbe non essere un'ottima idea. Noi potremmo scoprire che dietro a quest'internet delle cose che è partita, è partita anche per me, come una cosa bellissima, si nasconde qualcosa di pericoloso, si nasconde qualcosa di cattivo. Cosa potrebbe essere? Beh, tanto speriamo che sia una cosa che non ci costringerà a scappare di casa, la casa piena di internet delle cose diventa autonoma e noi dobbiamo dormire in mezzo alla strada. Veniamo invece a cose più terra a terra, veniamo a articoli, a cose scritte, a fatti, a previsioni, io nel 2006 rimasi colpito dal fatto che nessuno nominava che i nuovi desktop tv, i ricevitori di digitale terrestre, i primi ricevitori di digitale terrestre, avessero un canale di ritorno, cioè che erano sostanzialmente computer che ti permettevano di guardare la televisione, certo, ma che in qualche modo potevano mandare informazioni, all'epoca facevano una telefonata con un modem, quindi una cosa molto più terra a terra a qualcuno e mi preoccupavo del fatto che il fatto che lo facessero senza che se ne fosse consci potesse essere un problema. Questo era un piccolo esercizio di profezia che mi è venuto troppo bene purtroppo. Perché poco dopo c'è stato l'episodio del Nabastag, è nata questa internet delle cose, hanno cominciato a produrre oggetti che come i conigli si connettevano a internet e ci sono stati i primi episodi spiacevoli quando i centomila coniglietti Nabastag un giorno sono tutti morti perché la ditta che li produceva era fallita e i server non vanno da soli e la ditta è stata venduta a un'altra ditta che non ha ritenuto di continuare né a produrre gli oggetti né anche a tenerli vivi e quindi da un momento all'altro i poveri i coniglietti sono tutti morti e sono rivissuti solo perché in qualche modo gruppi di amatori sono riusciti ad avere, non si sa bene come, il software dei server, si sono creati dei server in giro per il mondo che hanno rianimato e fatto rinascere questi conigli e la storia questa ha un lieto fine. Il mio Nabastag è risolto e ancora recita l'oroscopo dei gemelli alle 8 la sera. Però, 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 se l'internet delle cose comincia a diventare più grande vuol dire che sempre più oggetti che noi continuiamo a vedere uguali a prima magari un po' più belli ma uguali a prima acquisiscono queste capacità non superomane ma super oggettistiche. Perché? Perché la lavatrice che già prima registrava le mie abitudini e io non lo sapevo può parlare con internet. Perché oggetti insospettabili come il mio sintonizzatore di canali satellitari ma anche altre cose, la mia televisione acquisiscono questa capacità e acquisiscono anche funzionalità belle pur essendo capaci sostanzialmente di fuori di me sempre la stessa prestazione perché a parte qualche abbellimento in più cosa faccio io con la televisione? Mediamente guardo la televisione con la lavatrice cosa faccio? Mediamente ci lavo i panni. Sì, è vero che adesso ci sono le televisioni a cui puoi dire tv accenditi, la tv si accende oppure ci sono anche i telefonini a cui puoi dire via panciati che 88 Firenze e vedere la cartina di Google Maps che si posiziona correttamente. Ma tutto questo è bello sono funzionalità interessanti ma è anche tranquillizzante. Cioè cosa c'è dietro tutto questo per cui queste funzionalità che ormai non ci sorprendono neanche più, le troviamo quasi naturali sono improvvisamente apparsi negli oggetti. Il discorso è molto largo e mi vorrei focalizzare su una cosa ben precisa, sulle televisioni intelligenti, le cosiddette smart tv. Perché? Perché sono il caso più importante degli ultimissimi tempi e parliamo di una cosa che sostanzialmente è emersa a febbraio e che ha fatto anche una buona copertura di stampa. E cos'è successo? E' successo che, e io continuo a autocitarmi per farvi un po' di pubblicità, molte persone hanno scritto, anche giornalisti tecnici, che le smart tv che erano capaci di accendersi quando io facevo così, o gli dicevo tv accenditi, dovevano avere un microfono, perché sennò come facevano a sentirmi? E dovevano avere una telecamera, sennò come facevano a percepire il mio gesto? Ma non è che ci sia niente di strano in questo. Ma se un oggetto può vedere e un oggetto può ascoltare ha intelligenza, diciamo fra virgolette, artificiale interna, è fatto da qualcuno che io non conosco ed è connesso a internet, io sono completamente sicuro di tenerlo in salotto. Certo, ho le mie soddisfazioni, i servizi sono interessanti, ma quando gli oggetti cominciano a diventare così intelligenti, sempre in senso di complessità interna, da poter essere definiti quasi soggetti, io posso realmente stare tranquillo. Mi verrebbe da dire, se gli oggetti facessero il loro, sarei abbastanza tranquillo, dovrei trovare il modo di relazionarmi a un oggetto molto intelligente, ma lo posso fare con un gatto o con un cane, quindi probabilmente lo potrei fare anche con un oggetto. Gli oggetti c'hanno di bello che hanno un interruttore di solito e si possono spengere, i cani, i gatti e anche i bambini piccoli non ce l'hanno l'interruttore, quindi sono più difficili da gestire. Ma torniamo al nostro discorso delle smart TV. Nessuno si preoccupava del fatto di mettersi in casa una console per videogiocare, ma in particolare, se guardiamo sui grandi numeri, l'oggetto sicuramente più diffuso è la smart TV. E la smart TV ha la telecamera, magari anche soltanto perché dice che ti puoi collegare con Skype. Benissimo. Ma dentro c'è un computer, c'è la connessione internet, eccetera, eccetera. E in quella piccola sporgenza che vedete, su questo apparecchio, che è un apparecchio non recentissimo, di praticamente l'azienda che ha inventato le smart TV, cioè la Samsung, e fa delle bellissime TV, devo dire, c'è questa pubblicità, vedete, smart interaction, tu puoi interagire con la tua televisione in maniera smart, bellissimo, e c'è quella piccola sporgenza dove sta tutto il problema. E il problema non è grande, ma ha dimensioni di questo tipo qui. Questa è una telecamera con microfono. Da anni le telecamere hanno queste dimensioni, bottone per camicia, roba che ai tempi di James Bond non le avrebbero neanche sperate cose del genere. Bene. Allora, questi oggetti creano problemi. Perché? Perché stiamo parlando di un elettrodomestico, elettronica di consumo. L'elettronica di consumo è fatta dall'industria. L'industria fa cose molto sofisticate. Ma, come tutte le industrie, un'industria è orientata al profitto. Qual è lo scopo primo di qualunque industria che abbia un consiglio di amministrazione, sia magari una multinazionale, eccetera, eccetera? Scopo primo del tutto legittimo. C'è qualcuno che vuole azzardare qual è, secondo me, lo scopo primo di un'azienda? I dividendi che paga gli azionisti. Tutto il resto è secondario. Lo scopo principale di una società per azione è fare dividendi per gli azionisti. Non c'è niente di male in questo di per sé. È chiaro che il modo poi distingue tante cose. Bene. Quando questo discorso aziendale si ripercuote, io ho lavorato per 40 anni per grandi aziende, quindi parlo anche con un minimo di cognizione di causa, si ripercuote all'interno di un'azienda, si creano delle cose che non sono esattamente ottimali. Senza che ci sia neanche cattiveria dietro questo. E in particolare l'elettronica di consumo, che ha un tasso di evoluzione mai visto nella storia dell'umanità, in cui i prodotti invecchiano ad una rapidità eccezionale e acquisiscono capacità e si abbassano di prezzo a una velocità eccezionale, questo problema è molto sensibile. Perché? Perché come ha detto un collega in tutt'altra presentazione, gli oggetti ormai non sono più hardware, sono prevalentemente software. Gli oggetti, sì, hanno dei meccanismi, hanno delle telecamere, circuiti integrati, alimentatori, qualche filo ci vuole, ma poi quello che li fa vivere, l'intelligenza di cui si parlava, che li rende attivi nell'interno delle cose, è software. Se il kernel Linux è 2 milioni di linee di codice, il software di una smart TV probabilmente è molto più grande, il software di una macchina, di una smart car di ultima generazione, probabilmente è 100 milioni di linee di codice. Questi software non vengono scritti ogni volta e monitorati ogni volta, vengono copiati, aggeggiati, messi insieme, funzionano, poi si pilla per fare il nuovo modello, si pilla quello del vecchio modello, gli scambiano due virgole, eccetera, eccetera. E quando l'oggetto funziona siamo tutti contenti. Ma l'oggetto è stato scrutinato, si è visto che non abbia altre funzionalità, si è visto che funzioni bene, beh no, questo non è così chiaro, perché essendo orientati ai profitti, il controllo qualità è fatto in maniera umana, quello che si può fare con i soldi che ci sono. La fretta di andare sul mercato il giorno prima del competitor, cosa che può fare differenza tra il successo e il fallimento, mette fretta. Ecco che succede, che questi bellissimi oggetti, che funzionano benissimo per fare quello che ci sembra che facciano, possono avere dei problemi. Ma, peggio ancora, siccome possono fare tante cose, oltre a quello che per cui noi li abbiamo comprati, può anche venire la tentazione di fargliele fare. Perché non si sa mai. Quanto capitalizza Google? 150 miliardi, mi pare, di valore azione, di lira più, di lira meno. Qual è il suo mestiere? Regala la roba, vero? Sì, fa un pochino di pubblicità, ma 150 miliardi sono la seconda azienda mondiale, la General Motors è un pochino più su, quindi c'è qualche cosa che non torna. Evidentemente c'è un valore, Google maneggia solo i dati, noi non voglio entrare nel merito, ma se maneggia solo dati che gli vengono ceduti gratuitamente, vale 150 miliardi di dollari, vuol dire che un po' di interesse economico nel maneggiare i dati c'è. Bene, io sono un venditore di elettrodomestici e gli elettrodomestici possono memorizzare dei dati, intercettare dei dati dalla batterice e quanti bucati, il televisore può guardarmi, può ascoltarmi, anche il telefonino lo può fare, anzi il telefonino può anche leggermi l'impronta digitale, ma ci fermiamo sul televisore. Siamo sicuri che io riuscirò a resistere alla tentazione? Io, multinazionale, correttamente votata al profitto di, dopo averti venduto il televisore, usare anche i tuoi dati? Ma dice forse per un televisore sì. Ebbene no. Chi pensa male fa peccato, ma ci indovina, diceva un politico, un famoso politico di qualche annetto fa, la cronaca l'ha dimostrato. La cronaca ha dimostrato a febbraio, quindi l'altro giorno, che il principale produttore di Smart TV, Samsung, si può dire tanto, è un fatto stradocumentato, aveva inserito nelle condizioni d'uso, perché la vostra televisione ha delle condizioni d'uso, se è una Smart TV, non solo il fatto che la televisione poteva ascoltare quello che ti dicevi, ma che lo poteva anche trasmettere a terze parti. Non c'è niente di strano, su tutti i telefonini, su tutti i programmi che avete sul computer, ci sono scritte le stesse cose, e anche loro fanno queste cose, che io potrei chiamare porcherie, dal mio punto di vista, altri potrebbero dire, ma che me ne frega tanto, i miei dati non valgono niente. Il caso è particolarmente clamoroso per come si è manifestato. Innanzitutto, nessuno pensa di accettare le condizioni del genere quando si mette una televisione davanti, la scarta, e comincia a guardare, guarda la risoluzione 4D, e ci vedo YouTube, eccetera, eccetera. Bellissimo. Bene, questo signore si è accorto, sì, effettivamente è vero, la vostra televisione smart, la Samsung, ascolta le vostre conversazioni, che lo debba fare per accogliersi quando dice accenditi, bene, ma che trasmettesse le vostre conversazioni quando voi non dicevate accenditi via internet alla Samsung e a terze parti, beh, questo è un pochino più difficile come boccone da buttare giù. Eppure è successo esattamente questo. Ma non solo, ed era una cosa che era facilmente prevedibile, io vi ho fatto delle equazioni in termini molto personali, ma ho detto delle cose del tutto prevedibili, perché se una cosa è conveniente economicamente non è vietata dalla legge, ma qualche volta anche se è vietata, qualcuno la fa. E infatti Samsung non è che si è nascosta, l'oggetto era lì, si poteva disassemblare, si poteva vedere, Samsung ha chiarificato che nelle sue privacy policy, nelle sue norme d'uso era prevista anche questa possibilità, ma che ovviamente non veniva mai usata, state tranquilli, blam blam blam, però fatto sta che la televisione ascoltava quello che veniva detto nella stanza e lo trasmetteva al di fuori. E anche se le condizioni d'uso legalmente lo permettono, permettetemi che questa è una cosa che fa venire la pelle irta. ma, attenzione, di più, come vi ho detto, quando si produce elettronica di consumo, quando si produce in generale roba ad alto tasso di evoluzione e obsolescenza, bisogna fare in fretta e non c'è tempo di fare tutti i controlli che si potrebbero fare. Magari nell'informatica medicale quando c'è attaccato un uomo che sta morendo se ne fanno di più, forse sui televisori e anche magari sui cellulari, no, non se ne fanno tanti. Infatti il bello è che non solo l'altrevisione vi stava a ascoltare, non solo trasmetteva fuori quello che dicevate, ma lo trasmetteva in chiaro, cioè non lo crittografava neanche, per cui oltre alla Samsung e agli eventuali terze parti che la Samsung avesse ritenuto delimentare con queste non registrazioni ma audio in tempo reale, anche chi stesse a intercettare le comunicazioni in internet se lo potevano leggere perché se avete la vista abbastanza acuta vedrete che questo è un flusso in chiaro in cui si leggono gli leader di una comunicazione audio e il resto sono dati binari che sono probabilmente un mp3. Questo non lo dico io o non è un si dice c'è questo signore io gli ho messo soltanto articoli e non sono tutti miei quelli interessanti ovviamente non lo sono ha decodificato le ROM della televisione ha sniffato i protocolli e ha visto che succedeva questo. Bene, mettereste ancora un televisore del genere nella vostra camera dal letto? Bene, mi ricordo di un romanzo di fantascienza anzi di un racconto di fantascienza che non vorrei citare una fesseria era di Brown che parlava appunto di una società in cui escono nuovi tipi di televisori e ne esce uno costosissimo che ha una funzionalità stranissima fa vedere gente nuda che fa l'amore e viene venduto sotto banco la gente se lo mette in casa se lo mette in camera per non farlo vedere bene, alla fine si scopre che in realtà i televisori non se lo facevano vedere ma anche registravano e uno che si comprava il televisore faceva automaticamente anche l'attore di film porno a vantaggio di altri e a vantaggio economico di chi tutto questo marchigegno metteva metteva in piedi ora questa è una battuta anche se il racconto esiste veramente mi è subito venuto in mente quando è venuto fuori di questo caso ma qui la situazione è ancora più complessa perché viviamo in una società dove il mercato dei dati è probabilmente una molla economica importante quanto le materie prime o il petrolio o le energie e è destinata a diventare più importante perché sempre più questo cresce o almeno se guardiamo il mercato azionario sembra di capire quello e allora avere le case piene di oggetti che in qualche modo partecipano a questo mercato dei dati prendendo i dati da noi che siamo produttori di dati sono le nostre abitudini i nostri gesti i discorsi che facciamo davanti alla televisione quello che diciamo al cellulare per i nostri itinerari e mille altre cosette perché quanti più oggetti intelligenti ci mettiamo in casa tanto più ovviamente questi dati aumenteranno ecco siamo veramente tranquilli veramente contenti di partecipare a questo mercato dei dati in cui noi ovviamente non abbiamo niente da nascondere a chi volete che interessino le mie foto quello che dico eccetera eccetera sì magari se quello che dico in salotto viene trasmesso fuori un pochino mi potrebbero girare le scatole ma tolto quello in tutti gli altri casi la cosa non è così preoccupante ebbene forse lo è forse lo è proprio perché chi maneggia i dati vale così tanto anche senza conoscere tutto quello che c'è nel mezzo i termini dell'equazione dicono che c'è che c'è un problema e questo problema nasce da due fattori uno è l'evoluzione tecnologica che in sé è neutrale come molte cose della scienza e è molto positiva in tanti casi perché è bello avere degli oggetti intelligenti quello che non è bello è non sapere che cosa fanno e quello che è ancora meno bello è sapere che tutti quelli che fabbricano oggetti intelligenti hanno probabilmente in alcuni casi dimostratamente secondi fini che valgono un sacco di soldi ecco questa è una cosa che inquieta che mette paura e che fa dire l'interno delle cose probabilmente sta diventando una cosa cattiva vi ringrazio forse abbiamo spazio per qualche domanda un attimo il microfono vorrei sapere visto che ne venderanno migliaia se non centinaia di migliaia di questi smart tv eccetera come fanno a gestire eventualmente tutti questi dati che loro captano e se ci può fare qualche esempio di come possono utilizzarli allora innanzitutto qui nessuno ce l'ha con un'azienda X la Samsung è un'azienda che fa ottimi televisori e non si comporta in maniera diversa da tutti gli altri è soltanto il caso che è nato la ribalta quindi non c'è da essere particolarmente preoccupati dalle smart tv anche se in questo momento sono loro in prima fila perché sicuramente fra un po' di tempo ci si accorgerà che per esempio le console di videogame hanno problemi ancora più importanti non è neanche importante capire se e quanto profitto in un caso particolare come questo possa essere stato fatto se e come questi particolari dati sono stati usati se sono stati usati se sono stati memorizzati e quant'altro perché quello che mi premeva sottolineare non è il caso particolare è il fatto che i casi particolari si potessero prevedere con così tanto anticipo che ci sono riuscito persino io e il fatto che questi casi particolari delineano una linea generale assolutamente univoca omogenea e unidirezionale tesa al fatto che gli oggetti intelligenti vengono utilizzati per drenare dati personali cosa preoccupante ma cosa ancora più preoccupante che la gente sostanzialmente se ne frega questa è la cosa veramente che mi fa caponare la pelle perché il fatto che chi vuole fare il suo lo faccia restando nell'ambito della legge fa parte dell'ordine delle cose ma il fatto che a parte casi eclatanti e forse le televisioni che ascoltano quello che dice in salotto hanno fatto il botto anche sulla stampa perché erano un caso eclatante facciano rumore e poi il tutto si spenga nel niente questo mi fa paura pensate soltanto per parlare di domani invece che di ieri tutti gli oggetti wearable che insieme ai vari watch qualche cosa ascolteranno il battito del vostro cuore sentiranno quanto altro state facendo il passo vi conteranno i passi vi diranno quanti chili avete speso eccetera eccetera e faranno tutto questo ovviamente nel cloud e ovviamente trasmettendo dati nella nuvola ma sono i vostri dati biometrici dal battito del vostro cuore si possono dedurre oltre che le condizioni di salute e tante altre belle cose anche fatti che di nuovo potrebbero diventare a luci rosse voi siete tanto tranquilli da mettervi un oggetto wearable che non solo vi fa qualche cosa che vi serve a voi ma che si collega all'esterno e trasmette i dati che la vostra bilancia pesa a persone pubblichi il vostro peso su facebook vi può far sorridere ma se lo fa a vostra insaputa o se lo fa non su facebook ma dicendolo alla vostra compagnia di assicurazione che si accorge che siete sovrappeso e vi alza il premio della polizia sulla vita voi siete tanto tranquilli ecco e questa è la domanda giusta da farsi perché non è una questione di puntare il dito questa è una chiacchierata che mi prendo la libertà di fare sulle tendenze a medio e lungo periodo per cui il caso particolare non ha importanza non bisogna dare addosso a nessuno ha veramente molta importanza e qui non è una questione informatica il disinteresse totale delle persone che in parte è forse naturale frutto di incoscienza e in parte è probabilmente anche pilotato perché certi aspetti delle comunità sociali perché una certa propaganda pubblicitaria eccetera eccetera sembra che tentino di far assuefare chi c'è dei dati in maniera incosciente o addirittura compulsiva farlo sempre di più e c'è una logica perché se i dati capitalizzano i miliardi di dollari tirare fuori il doppio di dati capitalizza il doppio di miliardi di dollari e ripeto in questo non c'è niente di male perché le multinazionali sono esseri non umani che possono agire in maniera perfettamente legale che sono finalizzati al profitto come le aziende ma anche gli individui tante volte il problema è che questo avvenga in maniera sempre più impercettibile e che nessuno insorga su queste cose mentre si insorge magari su aspetti del tutto secondari che non riguardano né la nostra vita né quella dei nostri ma non dico neanche figli e nipoti perché la velocità è tale per cui le evoluzioni di queste cose le vedremo anche noi anche le persone della mia fascia di età che non hanno i secoli davanti e di questo c'è davvero da preoccuparsi il microfono per favore una duplice domanda per lei una mia curiosità lei prima ha detto che per 40 anni ha lavorato con varie aziende se può dirci appunto per curiosità di che aziende cioè che tipo di lavoro e per che aziende l'ha svolto non so quante siano magari a campione la seconda domanda è facendo Cassandra quindi esercitando un minimo di filosofia nell'ambito dell'internet of things lei oltre questo rischio che ci ha delineato oggi quindi della violazione continuata della privacy per chiaramente scopi commerciali diciamo così vede altri rischi al regime ci sono altre cose su cui bisognerebbe puntare l'attenzione grazie allora sulla prima parte della domanda io non avevo nessuna difficoltà a elencare le aziende ma nessuna di queste aziende è di elettronica di consumo hanno sempre avuto elementi di informatica ma erano prevalenzialmente aziende meccaniche quindi niente di questo e come io ho messo nella mia introduzione io avevo studiato per fare cose strane e poi mi sono trovato a lavorare con la mia passione che era l'informatica quando l'informatica era quella di Wargames cioè la cornetta del telefono infilata nell'accoppiatore acustico se avete presente quindi no non credo che la cosa sia importante anche perché non sono nel focus di questo lavoro qui magari ci sono per gli argomenti di cui mi occupo quando scrivo software libero o partecipo a iniziative del genere ma non per il lavoro normale e come le dicevo qui il problema è il trend di lungo termine quindi il fatto che ho raccontato è il fatto del giorno il problema grosso è la tendenza che è lineare continua punta nella stessa direzione come Cassandra che diceva il cavallo di legno sento dei risolini che provengono dall'interno è strano il trend è univoco e i problemi esistono perché la privacy è stata considerata per lungo tempo un problema e da certo punto di vista chiunque ritiene di avere la sua sfera di privacy ancora a difendere anche se magari aggiorna sette volte al giorno il proprio profilo Facebook ma detto questo dobbiamo preoccuparci forse dei dettagli di una singola cosa ma più che altro dobbiamo preoccuparci del trend generale da una parte tecnologia e mercato e questo è di quello di cui ho parlato dall'altra e questo lo lascio come esercizio da svolgere a casa per ciascuno di noi di quello che fanno e viene anche fatto fare in parte alle persone che dovrebbero esercitare una maggiore attenzione perché questi problemi diventano impercettibili e invece stanno cominciando anche quando li percepiscono a dire ma tanto non è importante io ho diversi amici super informatici hacker eccetera eccetera che comunque ritengono di non avere niente da perdere niente da nascondere sono infilati nelle comunità sociali fino al collo hanno la casa piena di gadget sì magari prendono qualche precauzione ma sostanzialmente pur essendo perfettamente a conoscenza di queste cose anche più di me magari non gliene importa niente non lo ritengono importante lo ritengono forse è un trend inevitabile può darsi potrebbe essersi data la risposta tanto non c'è niente da fare e quindi perché lottare ma non c'è niente da fare accontentiamoci intanto di continuare a pensarlo di continuare a pensare ai problemi senza magari tentare di risolverli magari sceglierò di comprare una televisione da 200 euro senza telecamera né microfono io l'ho fatto due mesi fa tanto ci guardo la televisione non c'ha neanche la connessione internet pensate un po' ancora le fanno se uno se le vuole comprare e una volta fatto questo una volta tenuto a loro vivo il pensiero beh il resto sono risposte che troveremo forse nel futuro forse non c'è veramente niente da fare questo è un trend epocale è possibile potrei anche pensare è probabile certamente perdere la conoscenza perdere la percezione sarebbe una cosa estremamente negativa credo che abbiamo finito i tempi grazie ancora soprattutto di avermi preferito a Snowden e quello è veramente che è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra